Se volete acquistare crediti passate dal link in descrizione Pagina Facebook, sono italiani, economici, veloci e affidabili Link in descrizione E se vi servono PSN Card, Xbox Gift oppure PlayStation Plus oppure Xbox Gold Potete trovare il link qui in descrizione G2A, sono veloci, sicuri e affidabili Salve ragazzi, bentornati o benvenuti sul canale di Noi Malati di Foot Io sono Joey Spoda, lo staff di NMF E benvenuti nella player review del Papu Gomez nella sua versione Toz con 91 di rating Carta fantastica ragazzi, davvero incredibile Ma prima di iniziare questa player review vi chiedo di lasciare ragazzi Voglio almeno 100 mi piace o like per questa carta e per questa review Secondo me per il Papu, per il nostro Papu possiamo raggiungerli tranquillamente E se vi va andate nella sezione community dove posteremo sondaggi e post E condividete questo video, iscrivetevi a questo canale Iscrivetevi anche al nostro canale Telegram Seguiteci su Instagram e mettetevi in piace alla nostra pagina Facebook Link qui ai nostri social in descrizione Vi dico che Papu è veloce anche nella sua versione basse Ma qui è velocissimo Abbiamo 96 velocità accelerazione fantastica Velocità massima fantastica È davvero un fulmine Potrete anche tranquillamente saltare qualsiasi difensore con la velocità Perché è veramente veloce Come altro pro il dribbling se va abbinato alla velocità diventa infermabile Abbiamo 95 in carta Velocità equilibrio 99 Ragazzi controllo palla pazzesco il dribbling puro È assurdo, è assurdo E poi nello stretto la controlla benissimo Forse in velocità la allunga un filino troppo Ma poi quando va più lento tra virgolette La controlla benissimo Poi ha 4 stelle skill ragazzi Una freddezza incredibile Riflessi ottimi Dribbling davvero tutto tutto ottimo E ha un altro pro il tiro 89 Dalla distanza ha comunque secondo me un ottimo tiro Potenza tiro è forse la cosa un po' meno buona Tra virgolette Ma è comunque ottima Finalizza alla grande Si piazza benissimo Il worker si è alto medio quindi buono Il tiro al volo è anche molto interessante E il suo piede preferito è il destro con 4 stelle piede debole Che per me sono assolutamente un altro pro E devo dire il tiro a giro è molto preciso Mi piace il pallonetto Si ci sta, ci sta anche il pallonetto Il passaggio per me è un altro pro Abbiamo 91 in carta Ottimi 1-2 Ottimi assist Tanti passaggi ben riusciti È davvero un piacere far passaggi con questa carta Vede benissimo il suo compagno di squadra La sa crossare molto molto bene La precisione su punizione ragazzi Ancora una volta io la metto a parte Perché secondo me non fa proprio parte del passaggio Passaggi lunghi ottimi L'effetto davvero ottimo ragazzi E le sue punizioni non sono proprio precisissime ragazzi Come altro pro la resistenza 86 in carta E devo dire in game sembrava un 90 Davvero un giocatore con questa velocità che si stanca poco È una cosa ottima ragazzi Davvero ottima Come contro gli ho dato colpo di testa Abbiamo 44 precisione di testa 77 elevazione Salta quasi malamente La colpisce veramente di cacca Cioè per dirla in maniera povera E non cercate i cross sulla sua testa Perché non segnerà un gol di testa Come altro contro anche la forza fisica 52 in carta Sì magari non cade grazie all'equilibrio Ma si fa sovrastare fisicamente davvero In maniera troppo troppo facile Aggressività discreta E vi devo dire una cosa Comunque sì non ha una forza fisica Però riuscirete a sgusciare Tra le maglie difensive Grazie anche alla sua stazza Ho notato sta cosa Perché è un giocatore basso Si intruffola Meravigliosamente Nella difesa avversaria E poi è veloce E sa dribblare Come tratti abbiamo Tiro, tiratore da fuori Dribblatore tecnico Calcia, punizioni precise Specialità Velocista Dribblatore Tiratore dalla distanza Crossatore Funambulo Cecchino Attaccante completo Come alternativa Vi dico Griezmann Tra le Icon e il Ri93 Nella Nazione Aghiero Nella Lega Mertens Dello stesso livello Jovinco Toz Come se l'intesa Aumentateli assolutamente La forza fisica Come prezzo abbiamo Di circa 300.000 crediti Allora Ragazzi il prezzo È Mediamente Buono Comunque È della serie A Comunque È un'ottima alternativa A Mertens in form Di Bala Ragazzi Assolutamente Ma forse Gli avrei preferito Più un 250.000 crediti Ma non è un contro Il suo prezzo È una carta da provare Ragazzi Sì Se avete preso Di Bala in form Magari la sua versione 93 Che è La quarta versione In form Se non sbaglio E costa 800.000 crediti Se non di più Potete prendere Tranquillamente Gomez Alla metà E fa le stesse cose Di quel Di Bala Ecco perché Il mio voto Per questa carta È stato Un 9,5 Ed è Un 9,5 Una media voto Impressionante 9,5 9,46 Circa E devo dire Mi è piaciuto Tantissimo Non gli ho dato 10 Perché comunque Non ha forza fisica Non ha colpo di testa Se avesse avuto Forza fisica Ragazzi Sarebbe stato Fantastico Dunque Ditemi voi Cosa ne pensate Di questa carta Di questa player review Se vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento Una condivisione Iscrivetevi al canale Quello vi spo Vi saluto e vi ringrazia Ciao belli Ciao belli